C'è questo evento straordinario lanciato dal Papa con il Giubileo straordinario per l'appunto della Misericordia nel quale la città di Arezzo, secondo me, e l'ho proposto in questi termini, vuole fare festa. Si fa una festa in più. Qual è la nostra festa più bella? Il Saracino. E si fa un Saracino in più. La terza giostra del Saracino sa da fare. Con il passaggio in Consiglio Comunale è arrivata dunque l'ufficialità. L'edizione straordinaria dedicata al Giubileo della Misericordia si correrà sabato 27 agosto alle 21.30. Un'approvazione del Consiglio non senza polemica è arrivata solamente dopo un lungo dibattito che si è concluso con 19 voti favorevoli e 7 contrari. So che significa organizzare una terza giostra e so che è troppo tardi. E anche la forma con la quale è nata è assolutamente insufficiente rispetto a quello che dovrebbe essere l'evento. Quindi il mio no è deciso anche perché, ripeto, poteva e doveva essere condivisa diversamente con i quartieri, con la città, con i commercianti e soprattutto doveva essere venduta, passatemi il termine, in maniera diversa. La giostra unisce ciò che la politica divide. Questa è una frase che ogni tanto ripeto perché in effetti così non è un argomento che divide la città o viene discusso in ambito politico. È un argomento che interessa tutti quanti e sul quale si possono avere visioni diverse. A sollevare alcune polemiche nel corso dell'assise comunale i costi dell'edizione straordinaria della giostra del Saracino. I costi maggiori della giostra dell'organizzazione sono il montaggio e smontaggio delle tribune della Lizza per importi veramente considerevoli. Avendo pensato di fare la giostra del Giubileo l'ultima domenica di agosto, a una sola settimana di distanza dalla giostra tradizionale della prima domenica di settembre, comporta la non necessità di smontare e rimontare le tribune nel mezzo. Quindi faremo tre giostre ma due soli montaggi e smontaggi. Quindi di fatto c'è un'economia e alla fine il saldo di tutta l'operazione è positivo se riusciamo a riempire tutte le tribune.